Sette articoli per dare una stretta agli assembramenti. Lo aveva annunciato su FanoTV il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, che per frenare la curva dei contagi aveva espresso la volontà di firmare una nuova ordinanza. Ieri il governatore si è confrontato con i sindacati e le associazioni, chiarando che l'obiettivo non è quello di chiudere strade o piazze. L'impossibilità, salvo motivi di lavoro o salute, di cambiare comune e la chiusura di bar e ristoranti, ha detto Acquaroli, non combatte le situazioni in cui i cittadini anche involontariamente creano sembramenti e c'è una possibilità per il virus di passare da persona a persona. Ed ecco quindi il nuovo provvedimento al quale si sta lavorando. È fortemente raccomandato di evitare feste private e di non ricevere in casa persone diverse dai conviventi. Stop agli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle adiacenze delle attività. Stretta anche sulla spesa, sarà consentito l'accesso agli esercizi di vendita di genere alimentari soltanto a una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare minori di 14 anni, persone non autosufficienti o con difficoltà motorie. D'altra parte si raccomanda agli esercenti di riservare l'accesso alle attività di media e grandi strutture come centri commerciali agli over 65 nelle prime due ore di apertura dei locali stessi. Un altro punto riguarda i distributori automatici di alimenti e bevande. Possono rimanere aperti a condizione che venga garantito il distanziamento interpersonale tra la clientela, l'utilizzo della mascherina e la sanificazione. Invece per le scuole elementari e medie si sta pensando di sospendere le lezioni di canto, di strumenti a fiato e di educazione fisica al chiuso. Il mercato all'aperto è infine vietato solo nel caso in cui il comune non applichi le disposizioni previste dal protocollo di sicurezza della regione. Queste direttive fanno parte della bozza dell'ordinanza che in queste ore potrebbe essere modificata e ratificata da Acquaroli per l'entrata in vigore fino al prossimo 3 dicembre.